ci fai vedere come è chiamata la scacchiatura la scacchiatura della vigna qui per esempio si chiama come si chiama resico che serve per l'anno prossimo questo perché il proverbio dice che non resi chiano rosi ma dai e questo sopra è lo sperone che va spuntato ha spuntato due foglie sopra l'uovo giusto due germogli sopra l'uovo e poi vanno tolti questi germogli che non servono a niente senti le occhi di mauro questi qua questi vanno tolti vediamo se può essere meglio questo sotto questo sotto si lascia tutto per intero questo sopra si spunta giusto questo si spunta qua sopra due foglie sopra l'uovo questo è l'uovo ancora l'uovo ok vittorio che pulisce la vigna le tralci bella bella la campagna restito questi sono spero un po' più graffi un po' di due